Io adoro il mare sia sotto che sopra e dal momento in cui sono diventato un appassionato di arrampicata mi è sempre piaciuto avere la roccia vicino al mare. Avevo individuato che si poteva creare una partenza logica da un pezzo di ferro che esce dall'acqua. La cosa un po' più inquietante è che non c'è molta acqua sotto probabilmente cioè diciamo il confine tra il deep water soloing e la solitaria è abbastanza vicino. Devo provare a stare via assolutamente perché se no non ci darmo la notte, è troppo lontana da casa quindi spero di farla subito. Ok Dani puoi togliere! No! Amore! No! È solo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.